Tecnoideal Tecnoideal è un'azienda di Mirandola che grazie a una profonda conoscenza dei processi di realizzazione dei monouso medicali, progetta e costruisce macchinari per la produzione degli stessi. La sfida maggiore del nostro lavoro è garantire livelli di qualità elevatissimi, compatibili con l'ambito medicale, ma allo stesso tempo parlando di monouso, quindi di produzioni su larga scala, garantire l'efficienza del processo in termini economici e di quantità. Per la nostra linea abbiamo adottato un robot ABB in grado di svolgere compiti molto complessi, ma garantendo velocità elevate e soprattutto una qualità sicuramente superiore ad altri macchinari di diversa concezione. Grazie a questo IRB 1300 riusciamo a gestire l'inserimento di quattro tappi in presa singola, garantendo forze costanti e controlli integrati. Lo stesso processo delegato ad altri macchinari risulterebbe molto più costoso e più complicato. Abbiamo scelto ABB perché non sono semplici fornitori, ci sediamo al tavolo con loro e insieme studiamo qual è la soluzione migliore per la realizzazione del prodotto. Oltretutto ci è capitato che alcuni clienti chiedessero espressamente di montare ABB nelle nostre linee automatiche. Oltretutto ci è capitato che alcuni clienti chiedessero espressi,